Volevo un attimino mettere in evidenza quello che sono gli spam, i commenti che vanno a finire purtroppo nello spam. Noi vediamo le notifiche e le possiamo guardare in varie maniere. Una di quelle è andare dove c'è la campanellina delle notifiche, cliccarci sopra e andiamo a vedere le nostre notifiche. In questa maniera noi non vediamo quelle che sono andate a finire nello spam perché magari YouTube pensa che siano pubblicità e quindi andiamo a cliccare sull'icona del nostro profilo e andiamo a cliccare su YouTube studio versione beta o delle volte c'è creator studio. Si apre a sua volta un'altra pagina che sarà come quella che arrivano. questa pagina, noi abbiamo tutti i nostri commenti, quelli che non sono andati a finire nella spam e sopra c'è scritto pubblici, in attesa di revisione è possibile spam. Clicchiamo su spam e come potete vedere ne arrivano sempre tanti nello spam. Allora gli diamo una controllata se siano dei commenti normali e clicchiamo su approva. Fatelo questo lavoro perché purtroppo molti dei vostri commenti vengono non vengono poi visualizzati sotto i vostri video. Poi cliccate su pubblici e vedete quei quelli che erano nello spam sono stati messi poi pubblici e potete andare a cliccare sotto le vostre risposte, mettere il vostro mi piace, cuoricino e rispondere. Ok ragazzi, spero di essere stata chiara, brevemente chiara. Ciao ciao! Ciao!